Benvenuti alle Teorie di Darwin, protagonisti che raccontano e si raccontano, e mio ospite, graditissimo, il professor Dario Pasero, toridese, poeta, scrittore, docente di ruolo di italiano e latino all'Iceo Classico Botta di Ivrea, giornalista pubblicista, direttore di riviste culturali La Sloira e L'Escalina, difensore strenuo della Ligua Piemontese. Benvenuto, professore, ciao. Ciao direttore, grazie di tutto, buonasera a chi ci vede. Ha scritto il critico letterario Giovanni Tesio, che è stato nostro ospite, mio amico fraterno. Pasero non è un poeta frequente, ma eloquente. Eloquente perché i suoi temi rivendicano alla parola un'energia mitica, eloquente perché il suo lessico è ricco e classico. Bel complimento, ti riconosci in queste definizioni. Diciamo che l'amico Giovanni Tesio è perfino esagerato un po'. Però, sì, diciamo che tanto nomini nulla un parelogium, l'ha detto lui, non posso non sottoscrivere. Mi piace soprattutto di questa definizione la parte che riguarda il lessico, le parole, perché io sono strenuo difensore della lingua, ma energico difensore della parola. Cioè per me la parola è tutto. La persona, l'intellettuale soprattutto, dovrebbe, secondo me, riuscire a concentrare solamente proprio nelle parole, nel logos greco, pensiero e parola. Ecco, la parola oggi, tra l'altro, per via anche delle nuove tecnologie, si è molto accorciata, dimezzata. Ecco, il senso della parola pieno non esiste più. Ecco, che cosa può fare la scuola, tu sei docente di italiano e latino, per recuperare il senso della parola? Ma, direbbero in Toscana, hai detto un prospero, non è una questione che si risolve purtroppo con una chiacchierata tra amici di una ventina di minuti. Diciamo che la scuola, detto tra virgolette, purtroppo, si sta adeguando ai nuovi sistemi. Purtroppo, per fortuna, entrambe le cose, per fortuna la scuola si adegua, purtroppo la scuola si adegua. Sembra un paradosso, ma secondo me non è così, perché giustamente come dici tu, i nuovi sistemi informatici, virtuali, i social forum, servono a conoscere, a approfondire, a ingigantire a volte per fine eccessivamente i problemi. Quindi la scuola ne deve tener conto, però non deve rinunciare al suo ruolo di trasmettitrice di concetti, di frasi e quindi anche di parole. Io nel mio piccolo faccio quello che posso, insistendo molto su quella che da qualche anno in qua si chiama educazione linguistica, giustamente. Quindi lessico, stile, figure retoriche, sia nel commento degli autori sia nella produzione da parte degli studenti. E Don Quixote contro i mulini a vento, speriamo che stavolta non vincano i mulini a vento. Il tema del mito, della campagna come utopia, della città come apocalisse, la carne cruda del dialetto tornano in molti scrittori, scrittori e poeti torinesi. Io penso ad esempio ad Arpino. Carne cruda. E a Pavese la carne cruda del dialetto in Giovanni Arpino. In te, quali temi ancestrali hanno una posizione di rilievo? Ma, dunque, intanto io non condivido del tutto l'idea della città come apocalissi, a meno che si voglia intendere l'apocalisse nel suo significato etimologico greco di rivelazione, scoperta. Allora, su questo, se usiamo l'apocalisse nella sua accezione consueta di sconvolgimento, disordine, barbarie, io sinceramente non mi riconosco in questa definizione. La città ha i suoi lati positivi, ha i suoi lati negativi, esattamente come la campagna. Io mi trovo in questa, infatti, non per niente, una delle mie raccolte poetiche si intitola appunto la cresta dell'ombra, sulla cresta dell'ombra. Perché io mi sento sulla cresta di quest'ombra tra la città e la campagna. Io sono nato a Torino, ho vissuto quasi tutta la mia vita, fino ai 40 anni a Torino, però con questi lunghi periodi di alternanza con Saluzzo, o meglio col marchesato di Saluzzo, in particolare con la Manta, famoso Castello, Fontana della Giovinezza, Prodi ed Eroine. E quindi mi trovo così in questa situazione di confronto, di misura tra la città e la campagna. Spero, spero, di riuscire a vedere il bene e il male di entrambi. E nella mia poesia, nei miei scritti, spero di riuscire a farlo capire. Poi affronteremo anche appunto la tua poesia. Tra l'altro, sul dialetto, a te non piace il termine dialetto, tu preferisci lingua minore. Sì, non sono l'unico, però sì. Ecco, perché? Allora, intendiamoci, la parola dialetto in sé non ha nulla di male, anzi, chi sa il greco sa che dialetos vuol dire lingua, quindi è esattamente la stessa cosa. Il problema è la sferzata di disprezzo che una certa cultura egemone dagli anni 30 del secolo scorso in poi ha collocato sulla parola dialetto. Dialetto vuol dire ignorante. Chi parla il dialetto, chi si esprime in diretto è un ignorante. Il contadino, l'analfabeta, quello che non ha studiato. O al massimo, ultimamente si è un po' diffusa invece un'altra idea, sempre secondo me sbagliata, spero di non fare pubblicità, ma tra noi la usiamo questa cosa, alla mulino bianco. Chi parla il dialetto vive in questa specie di mondo incantato della campagna, perfettamente pettinata, la brezza primaverile, che è di molta poesia dialettale. Su questo sono per tenere d'accordo con Pasolini quando scriveva una cosa è la poesia dialettale, una cosa è la poesia in dialetto. Pasolini usava il termine dialetto, ma erano altri tempi. Una cosa è la poesia dialettale che tratta argomenti futili, una cosa è una poesia in dialetto o in lingua minore che può tranquillamente stare al pari con la poesia in una lingua egemone. Il fatto però è che come la lingua italiana è stata contaminata ad esempio dall'inglese, molte riunioni ad esempio tra manager c'è questa grande confusione tra l'italiano e l'inglese. Ecco, anche il dialetto stesso però, se io penso ad esempio al torinese della mia infanzia, non parlo il piemontese però, adesso è cambiato. Sento che ha anche suoni diversi rispetto a quando era molto più duro. Adesso è successo anche questo, si può arrivare a contaminare un dialetto? Cioè, se, allora, qui l'amico Giovanni Tesio ha detto cose molto lucide, molto chiare e anche direi molto definitive. Se una lingua o un dialetto è parlato, per forza si contaminerà. Una lingua, chiamiamola dialetto, chiamiamola lingua, che viene usata quotidianamente, sistematicamente, a contatto con altre lingue, parlate nello stesso ambiente, o in televisione, o alla radio, o sui social forum, a contatto con altre lingue, per forza si contaminerà e cambierà. Diverso è il discorso della lingua letteraria. Tu hai in mano il mio libro, allora, lingua letteraria è un altro discorso. Questo libro lo faccio pronunciare a te per non fare brutte figure col mio piemontese scarsissimo. L'Umbra Stermà. Che vuol dire? L'ombra nascosta. L'ombra nascosta.